Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio un link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Prima di iniziare voglio dirvi delle cose. Le scene descritte in questo caso sono davvero forti, un vero pugno allo stomaco. Il racconto di quanto accaduto a Susan fa scendere sul cuore un cupo velo di tristezza e lo fa anche pulsare di rabbia. Proprio per questo voglio dare voce alla sua storia e alla sua resilienza. Detto ciò, cominciamo. Susan Kapper nasce nel 1976 nel Regno Unito. Cresce con sua madre, Elizabeth, e la sorella maggiore, Michelle, nella zona di Moston, Manchester. Suo padre invece ha abbandonato la famiglia e non vuole avere niente a che fare con lei. Dunque l'infanzia di Susan non è affatto delle migliori. La madre presto si risposa con un altro uomo, tuttavia anche questo non sarà un matrimonio felice perché Elizabeth e il nuovo marito discutono costantemente. La loro relazione è fortemente instabile e il clima di casa non è adatto alla crescita di una bambina. Questa situazione infatti è comprensibilmente fonte di stress per Susan che, ciononostante, viene descritta come una ragazzina educata, gentile, premurosa e anche molto vivace. Susan è solita fare di tutto per aiutare il prossimo e desidera soltanto una cosa, essere amata. Lei non sa che cosa significhi perché a casa non le hanno mai dimostrato affetto, quindi cerca costantemente di farsi accettare dagli altri. Se le persone l'avessero accettata avrebbero anche iniziato a volerle bene. Un giorno la madre di Susan compie un gesto inaspettato. Esce di casa e se ne va, lasciando le sue due figlie con il patrigno. Come potrete immaginare, Susan ne rimane davvero traumatizzata. Da sempre suo padre biologico non vuole avere a che fare con lei e ora anche sua madre l'ha abbandonata. In questo periodo Susan ha più o meno 14 anni e d'ora in poi la sua vita non fa altro che peggiorare. Lei e sua sorella si ritrovano a non avere più una dimora fissa perché, siccome anche il patrigno non gradisce particolarmente la loro presenza, si spostano spesso a casa di amici di famiglia e passano la notte su un divano. Questo trambusto familiare ha un chiaro impatto negativo sulla vita delle due ragazze, in particolar modo proprio su Susan che dai 14 ai 16 anni quasi smette di frequentare la scuola. Pur essendo iscritta alla Moston Brook High School, la sua presenza è definita irregolare. E onestamente posso capirla, Susan non ha una casa stabile. Ogni mattina quando si alza si chiede dove avrebbe dormito la notte successiva. Nel continuo tentativo di risolvere i suoi problemi, la scuola passa in secondo piano. Arriviamo al 1992, Susan ha 16 anni e inizia a trascorrere molto tempo con una donna, la 25enne Jean Powell. Le due in realtà si conoscono da tempo perché Susan lavora saltuariamente per Jean come babysitter fin da quando aveva 10 anni. Jean è madre di tre bambini e Susan, che è cresciuta con delle figure genitoriali discutibili, si affeziona molto a lei. Trascorre intere giornate a casa della donna e inizia a considerarla quasi come una figura materna, visto che in un certo senso Jean ha scelto di prenderla sotto la sua ala protettrice. Più passa il tempo, più Susan si sente in famiglia con Jean e i suoi figli. Talvolta, pensate, la ragazza si ritrova a chiamare Jean mamma. Ormai le vuole molto bene e continua a desiderare soltanto una cosa dalla vita, essere accettata e amata. Ma cosa dire invece su Jean? Beh, dovete sapere che purtroppo non è una brava persona. Il suo lavoro è quello di vendere sostanzine in casa sua e se ne serve anche per uso personale. Inoltre si occupa di gestire la collocazione di veicoli rubati. I vicini descrivono Jean come un lupo travestito da agnello perché in apparenza sembra una donna simpatica e affascinante, ma in realtà è una manipolatrice che si approfitta degli altri senza farsi scrupoli. Purtroppo nella sua trappola è finita anche Susan, il cui carattere gentile è un'opportunità da sfruttare per Jean. Tanto per cominciare, Susan fa la babysitter per lei gratuitamente, senza mai percepire un soldo. Inoltre la ragazza spesso le pulisce casa, ma non viene comunque pagata. Tuttavia c'è da dire che a Susan non interessano i soldi, le basta ottenere l'attenzione di cui ha bisogno, quella che la sua famiglia non le ha mai concesso. Per cui è sempre pronta a dire di sì a Jean, di fronte a qualsiasi richiesta. Arriva un momento in cui la donna convince la ragazzina a lasciare definitivamente la scuola per diventare una collaboratrice domestica. Susan accetta il suggerimento e inizia a lavorare per altri clienti, ma quando torna a casa di Jean, dove spesso dorme, puntualmente lei le prende tutti i soldi che ha guadagnato. In questa storia però le colpe non sono tutte di Jean, infatti devo parlarvi di altre cinque persone. Iniziamo dalla seconda, Bernadette McNally, che Susan conosce grazie a Jean. Bernadette ha 23 anni e anche lei è madre di tre figli. Si è trasferita in una casa che si colloca letteralmente a due porte di distanza da quella di Jean e non è una persona dai modi fini. Spesso Bernadette incappa i litigi con i vicini perché fa un gran baccano e una volta arriva a minacciare uno di loro urlando che gli avrebbe dato fuoco alla casa. Alla fine si limita a bruciargli gli indumenti stesi all'esterno per l'asciugatura. Come avrete capito Jean e Bernadette si assomigliano nel loro essere soggetti problematici, quindi diventano presto grandi amiche, trascorrono del tempo insieme e Susan, che si trova spesso a casa di Jean, conosce così Bernadette. La casa di Jean, una villetta schiera in stile vittoriano, si trova al numero 97 di Langworthy Road a Moston. Come già detto la dimora è un punto di vendita di sostanzine a tutto spiano. che Jean vende e consuma anche. La cucina ospita diverse bilanze industriali usate per pesare le sostanzine e tutta la casa è un vero disastro, c'è spazzatura ovunque, nessuno pulisce, tranne Susan. Inoltre come accennato l'abitazione è anche lo snodo da cui viene rinvenuta merce rubata, automobili comprese. Quando i sedili delle macchine restano invenduti, Jean li utilizza come divani e li piazza in soggiorno. Ovviamente in casa c'è un via vai continuo di gente che acquista sostanzine e magari si ferma lì a consumarle. Poi una nuova inquilina con prole si trasferisce da Jean e figli. Si tratta proprio di Bernadette che nonostante il trasloco non mette in vendita a casa propria. Questa sua decisione mi stranisce visto che le due abitavano davvero vicinissime. Vi inserisco delle foto che ho trovato su Google Maps perché sono andata a cercare con Street View la posizione esatta delle due case. Come vedete sono quasi attaccate, si impiegano dieci secondi per uscire dalla porta di casa di Jean e arrivare a quella di Bernadette. Ora, quindi, a casa di Jean vivono sei bambini che dormono al piano di sopra, in un'unica stanza, tutti insieme su un materasso, mentre Jean e Bernadette piazzano un altro materasso al centro del soggiorno. Ma non è finita qui perché ci sono altre persone che si fermano in quella casa giorno e notte, quindi sostanzialmente vi vivono. Tra loro c'è Glyn Powell, l'ex marito di Jean, con cui la donna è rimasta in buoni rapporti. Glyn ha alle spalle diverse condanne per furto con scasso. Poi c'è il 17enne Clifford Pook, assiduo frequentatore della casa e fratellastro di Jean. Altro ospite fisso è il 16enne Anthony Dudson, fidanzato con Bernadette che vi ricordo ha 23 anni. Infine c'è Jeffrey Licht, che non vive a tempo pieno in quella casa, ma la frequenta assiduamente perché ha una dipendenza dalle sostanzine e vi si reca ogni giorno per acquistarle. Jeffrey era stato condannato per aver rubato dei soldi a sua zia, una disabile di 86 anni. Inoltre inquilini e ospiti si alternano nell'andare a letto gli uni con gli altri. Bernadette, come detto, sta insieme al 16enne Anthony, che però ha rapporti intimi pure con Jean. Jean a sua volta va letto anche con Jeffrey. L'unica persona che a quanto pare non ha rapporti intimi con nessuno degli abitanti della casa è Clifford, il fratellastro di Jean. Vi ricordo poi che qui vivono anche sei bambini. Osservando la casa da Street View si nota che non è così spaziosa, quindi mi chiedo come riescono ad abitare tutti insieme lì dentro. Di certo il materasso che usavano Jean e Bernadette non era sufficiente per tutti gli ospiti, quindi presumo ne abbiano disposti altri al piano terra, pure in cucina. Oltre a loro dobbiamo considerare anche Susan, che dormendo spesso da Jean si ritrova circondata da tutte queste personcine ben poco a modo. Pensate che anche la sorella di Susan, Michelle, vive in quella casa per un periodo, ma nell'agosto del 1992 decide di andarsene. Non le piacciono i nuovi amici di Jean, specialmente Bernadette, che si è appena trasferita a casa della donna. Non passa molto tempo prima che Jean cambi drasticamente il modo cordiale di porsi con Susan, per diventare abusante. Man mano le insinuazioni contro la ragazza aumentano, Jean dice a Susan che non si prende cura dei bambini adeguatamente e l'accusa di aver rubato degli oggetti che non si trovano più in casa. Lei e Bernadette le urlano in faccia, dapprima sono verbalmente violente con Susan, poi arrivano a picchiarla selvaggiamente, lasciandola piena di lividi. L'adolescente non si ribella dalle percosse, pensa siano punizioni che merita di ricevere. Susan è una ragazza vulnerabile che non ha mai conosciuto l'amore, non era mai stata coccolata, non le avevano mai rivolto un complimento prima che fosse Jean a farglieli, perché in un primo periodo la trattava con affetto. Quindi Susan pensa che se non meritasse davvero queste punizioni non le subirebbe, di certo ha fatto qualcosa di sbagliato. Tuttavia arriva un giorno in cui Susan non ne può più e trova il coraggio di lasciare quella casa. Cerca un altro posto dove vivere e va a trovare sua madre, che ormai vive con un altro uomo. La ragazza sa che a lui non va a Genio, ma tenta ugualmente di chiedere aiuto. Quindi bussa la porta di casa di sua madre, è coperta di lividi e cerca un posto dove trascorrere la notte, in attesa di trovare un'altra sistemazione. La sua gelida madre però si rifiuta di accoglierla, neanche la fa entrare in casa. Secondo alcune fonti consultate, Elizabeth promette a Susan che entro qualche settimana si sarebbe attrezzata per liberare una stanza e ospitarla. La cosa che mi lascia sconvolta è che Susan ha sulla pelle segni inequivocabili. È ovvio che viene maltrattata, ma sua madre non le chiede come se sia procurata quei lividi. Crede che sua figlia sia stata coinvolta in una rissa, ma se l'avesse conosciuta davvero avrebbe saputo che Susan non era tipa da finire immischiata in simili baruffe. Questo è un momento cruciale nella vita di Susan, perché si è resa conto che non merita di subire quei maltrattamenti e ha trovato il coraggio di lasciare la casa di Jean. Ma per la prima volta in cui ha chiesto a sua madre di starle accanto, ha ricevuto una porta in faccia. Intanto si rifugia a casa del suo patrigno. Nel frattempo Bernadette e Jean sono in crisi perché non hanno più nessuno su cui sfogare le loro frustrazioni. Anche se Susan non è presente, continuano a darle la colpa per tutto, persino della sparizione di un Montgomery rosa avvenuta in sua assenza. In realtà Susan non si sarebbe mai permessa di rubare neanche un cioccolatino perché è estremamente educata e di buon cuore. Quando Jean, Bernadette, Glyn e Anthony si contagiano trasmettendosi le piattole, Susan viene di nuovo menzionata come la colpevole. È ovvio che queste convenzioni sono folle. Gli inquilini sanno di abitare in una casa lercia e di andare a letto tra loro, a turno, senza alcuna protezione. Possiamo immaginare come abbiano preso le piattole. Ma sapete perché danno la colpa alla povera Susan? Perché ogni tanto la ragazza condivideva lo stesso materasso con loro per dormire. Qualcuno avrebbe dovuto spiegare a questi esseri che le piattole non si veicolano così. Direi che sono alquanto confusi oltre ad essere completamente fuori di testa. Probabilmente hanno l'intelligenza di uno yogurt scaduto. In ogni caso questa banda di sconclusionati decide di vendicarsi su Susan sia per il furto del Montgomery sia perché ha attaccato loro le piattole. Arriviamo quindi al 7 dicembre del 1992 quando Jean e Bernadette pensano a un modo per attirare Susan che alloggia ancora col patrigno. Le due si presentano lì e dicono alla ragazza che c'è un ragazzo ad attenderla a casa loro. Come immaginavano la notizia fa presa su Susan, felice che qualcuno la apprezzi. Ma in quel covo di vipere c'è ben altro che l'aspetta. Appena Susan entra in casa Glyn Powell e Anthony Dudson la afferrano e la trascinano in cucina dove la legano tramite una catena rendendola a tutti gli effetti una loro prigioniera. Qui inizia la parte peggiore del caso che stiamo ricostruendo, un vero incubo per la povera Susan. Per cominciare i suoi aguzzini le radono tutti i capelli, le sopracciglia e la zona pubblica. Successivamente la obbligano a lavare quelle ciocche ormai tagliate. Appena ha terminato la legano di nuovo in cucina e le imprigionano la testa in un sacchetto di plastica. Iniziano a picchiarla, la prendono a calci, la frustano, la colpiscono con le fibbie delle cinture. Ad un certo punto ricorrono a delle grosse e pesanti decorazioni in legno che raffigurano un cucchiaio e una forchetta per continuare a picchiarla. Mentre alternandosi commettono queste azioni brutali ridono e fanno battute. A causa di questo pestaggio disumano un braccio di Susan rimane inerte, non riesce più a muoverlo. Alla fine la ragazza sviene. Allora il gruppo la trascina e la infile in un armadio sotto le scale lasciandola lì tutta la notte. La mattina dopo, quando Susan si sveglia, comincia a urlare. Si ritrova chiusa in un armadio, pestata nei peggiori dei modi, terrorizzata. Ma Jean e Bernadette sono infastidite dalle sue grida perché disturbano i bambini. Allora Bernadette decide di trasferire Susan a casa sua, che attualmente è disabitata. Lì avrebbe potuto continuare a urlare senza disturbare. Appena Susan viene portata a casa di Bernadette, quest'ultima assume il ruolo di capobanda. La ragazza viene condotta con la forza in una camera al piano di sopra dove c'è un letto sgangherato e capovolto. Susan viene imbavagliata, le bendano anche gli occhi e la costringono a sdraiarsi a pancia in giù sulle doghe di legno del letto. La banda usa un cavo elettrico per legare la ragazza alle doghe e per i successivi quattro giorni Susan rimane lì, imprigionata. Non riceve acqua, cibo, né può andare in bagno. Subisce però tante altre percosse, frustate e tortore, arrivano a bruciarla spegnendole le sigarette in faccia. Ogni volta che Susan dà segni di svenimento, il gruppo le inietta delle sostanze potenti per tenerla sveglia, con il solo obiettivo di mantenerla vigile durante le tortore. Ma non è finita qui, perché Susan viene anche sottoposta a delle tortore psicologiche. È costretta ad ascoltare a tutto volume tramite delle cuffie un brano hardcore particolarmente inquietante, il loop. La canzone in questione si chiama Hi, I'm Chucky, Wanna Play? E mi risulta che venisse messa in rave. Il testo contiene alcune frasi tratte dal film horror Chucky la bambola assassina. Credo onestamente sia necessario farvi sentire una piccola parte di questa canzone che interamente dura 5 minuti che io ho ascoltato. Ho verificato che non sussistano problemi di copyright, quindi ne riprodurrò una parte. Come vi dicevo io l'ho ascoltata, tutta. Io ho iniziato ad avere i brividi pensando a ciò che quella povera ragazza ha dovuto sopportare, sentendola in continuazione giorno e notte, non appena i selvaggi maltrattamenti fisici cessavano. Nel frattempo, come detto, tutti continuano a maltrattare Susan barbaramente, nessuno escluso. Bernadette diventa ancora più crudele. Ogni volta che il gruppo si avvicina alla vittima per sottoporla ai pestaggi, le vengono tolte le cuffie e Bernadette le si avvicina per dirle Esattamente come recita la canzone che Susan è obbligata ad ascoltare in continuazione. La ragazzina, quando sente Bernadette pronunciare queste parole, va in panico, inizia a urlare terrorizzata perché questo è il segnale di avvio a percoste e tortura. Quando Clifford trova delle pinze, gli viene in mente di usarle per strappare i denti a Susan. Mentre la colpisce, ride, poi riesce a estrarle con violenza due incisivi centrali. Ancora insoddisfatto, prova a estrarre un ennesimo dente finché non si rompe a metà, lasciando il nervo esposto. Io non riesco minimamente a immaginare il dolore di Susan è legata e immobilizzata da tre giorni, sta subendo torture di una ferocia inaudita e devastata sia mentalmente che fisicamente. Questo caso, sono onesta, quasi non sembra reale, assomiglia più a un film horror, ma purtroppo non lo è. Quando gli aguzzini sono disturbati dall'odore che emana alla stanza delle torture, trascinano Susan in bagno e la spingono nella vasca, cosparsa di disinfettante e concentrato. Susan urla perché sente il corpo bruciare, ma i membri della banda, infierendo, le strofinano forte una spazzola rigida su tutta la pelle che inizia a staccarsi come sfoglie. Dopo giorni di prigionia, un'altra persona entra in casa di Bernadette, il diciottenne David Hill, un amico della banda che bazzica nei dintorni, spesso in cerca di sostanzine. David sopraggiunge, ma attenzione, non ha idea che in casa sia presente anche Susan. In quel momento, ad accoglierlo, ci sono solo Jeffrey e Anthony. Non passa molto tempo prima che David senta degli strani rumori provenire dal piano di sopra, quindi chiede spiegazioni. I due ragazzi, invece di nascondere il crimine, raccontano orgogliosi che hanno rapito la ragazza. Non solo. Gli chiedono di unirsi a loro e di andarla a trovare. Quindi mostrano Susan a David e quest'ultimo rimane scioccato. Susan è ancora legata a quel dannato letto. Non ha più capelli e sopracciglia. Ha perso due denti, è piena di graffi, lividi, ferite e la sua pelle si sta staccando. Anthony e Jeffrey si allontanano un attimo, chiedendo a uno sconvolto David di tenere d'occhio la vittima. David così si ritrova solo con Susan che, ancora in grado di parlare, gli chiede aiuto, disperata. Lo supplica continuamente, per favore, aiutami. Ma lui risponde sempre, non posso farlo. E si siede davanti a lei, a osservarla. L'unica cosa che le chiede è il suo nome. Nient'altro. David successivamente dirà che aveva paura di quel gruppo, di ciò che quella gente avrebbe potuto fargli se avesse liberato Susan. Quindi, appena i sei tornano in casa, David se ne va più veloce che può, senza affrontare nessuno. Ora, posso capire la sua paura, davvero? Lo posso capire. Ma sarebbe bastata una chiamata anonima alla polizia per intervenire a favore della povera Susan. Ma mi chiedo poi, dove siano finiti i vicini? Di sicuro udivano le grida della prigioniera, data la vicinanza tra le abitazioni. Dunque, perché nessuno ha chiamato la polizia? Dopo cinque giorni di assenza, la famiglia di Susan inizia finalmente a chiedersi dove sia finita la giovane. Sapendo che Susan frequenta assiduamente casa di Jean, la sorella Michelle va a cercarla lì. Jean le dice che non ha idea di dove si trovi Susan, che non l'avete da giorni. Michelle allora preannuncia che sta per andare dalla polizia a denunciare la scomparsa della sorella. Questa notizia fa andare l'intero gruppo di Aguzzini che già immagina l'arrivo degli sbirri a casa di Bernadette. Nelle menti dei sei criminali si profilano due opzioni, liberare Susan o ucciderla. Infine, concludono che non ci sono davvero due alternative, non possono ipotizzare di liberare Susan perché li avrebbe denunciati, quindi decidono di ucciderla. Iniziano a pensare come e trovano un modo. Nelle prime ore del 14 dicembre 1992 Susan viene costretta a entrare nel bagagliaio di una Fiat Panda Bianca, una macchina rubata. Glyn è alla guida. Bernadette si accomoda sul sedile anteriore del passeggero. Infine Jean e Anthony sono seduti sui sedili posteriori. Glyn guida per circa mezz'ora e durante il tragitto i criminali ridono e scherzano mentre Susan è nel bagagliaio. Arrivano in una zona boschiva appena fuori Manchester, dopodiché parcheggiano la macchina e tirano fuori Susan dal bagagliaio. Lei è completamente disorientata, è affamata, ha sete ed è sotto l'effetto di alcune sostanzine che il gruppo ha continuato a iniettarle per farla rimanere vigile. Dunque, sono giorni che non dorme. La banda sale in cima a un terrapieno e decide di spingere Susan giù. La ragazza precipita, rotola e finisce in mezzo dei rovi che le tagliano la pelle. Quando è ormai sdraiata a terra in fondo al ciglione, Bernadette estrae dalla macchina una tannica di benzina e gliela versa addosso. Infine ordina ad Anthony e a Glyn di darle fuoco. I due provano più volte ad appiccarlo. All'inizio non si accende, ma dopo un po', ahimè, riescono nella loro terribile impresa. Appena Susan prende fuoco, il gruppo si allontana sempre ridendo, scherzando e facendo battute. Addirittura, prima di entrare in macchina, i criminali cantano la canzone Disco Inferno e il ritornello recita Burn Baby Burn, che tradotto in italiano significa Brucia Piccola Brucia. Ovviamente sono convinti di aver ucciso Susan, tanto che mentre tornano a casa si fermano a comprare delle birre. Tuttavia, non è così. Non so come sia possibile, ma quella tenace ragazza è ancora viva. È riuscita in qualche modo a spegnere il fuoco e trova la forza di trascinarsi fino alla strada più vicina. Sono le 6 e 10 del mattino quando un passante la vede sul ciglio della strada. Il suo nome è Barry Sutcliffe e sta andando al lavoro. Barry nel soccorrerla non riesce a credere allo stato in cui si trova, la ragazza. L'80% del suo corpo è coperto da ustioni. La sua pelle è in parte staccata e pendente. Barry la porta subito nella casa più vicina e chiede aiuto. I residenti dell'abitazione, Michael e Margaret Coop, chiamano un'ambulanza e intanto fanno tutto il possibile per salvare Susan. La ragazza beve 6 bicchieri colmi d'acqua ma non riesce a reggere il recipiente da sola con le sue mani. Margaret cerca di confortarla ma appena le sfiora la pelle la ragazza si ritrae per il dolore atroce. Michael Coop ha dichiarato sull'aspetto di Susan. Entrambe le mani sembravano cenere. Le sue gambe erano proprio come carne cruda e i piedi sembravano gravemente carbonizzati. Sono rimasto colpito da quanto fosse gentile la vittima. Ringraziava costantemente mia moglie per il suo aiuto. Margaret Coop invece ha dichiarato. Sono andata istintivamente ad abbracciarla ma lei si è ritratta perché non poteva sopportare di essere toccata. La sua testa era rasata e c'erano tagli recenti, non nuovi. Il suo viso era quasi senza lineamenti. Le sue mani erano rosse e le punte delle dita nere. Le gambe erano rosse da cima a fondo. Quando arriva l'ambulanza Susan viene portata d'urgenza all'ospedale. Sua madre e suo patrigno vengono chiamati immediatamente e quando arrivano all'ospedale i medici gli dicono che le ustioni sono così gravi che non possono identificare Susan con certezza. Pensate che neanche i suoi genitori ci riescono. Si è dovuto fare ricorso all'impronta digitale del suo pollice l'unico dito non ustionato. Medici e infermiere si mettono all'opera e cercano di capire quali rischi corra Susan. Incredibilmente la ragazza ha ancora la forza per parlare con la polizia e identificare tutti i suoi aguzzini. Piega loro in cosa è consistita la sua prigionia cosa ha dovuto subire per sei orribili giorni. Poco dopo purtroppo Susan entra in coma. Nel frattempo la polizia va a casa di Jean. Le quattro persone che hanno dato fuoco a Susan ossia Jean, Anthony, Bernadette e Glyn una volta tornate a casa vengono raggiunte da Clifford e Jeffrey e iniziano a bere alcolici. Alle 19.30 il gruppo descritto da Susan è a casa da circa un'ora ed è al completo quando la polizia fa irruzione. I quattro incendiari non si erano neanche preoccupati di lavarsi e cambiarsi i vestiti. Tutti e sei i criminali vengono presi alla sprovvista non capiscono come la polizia sia già riuscita ad arrivare a loro convinti di aver ucciso Susan e che mai nessuno l'avrebbe realmente cercata. Questi sei folli negano ogni coinvolgimento nella vicenda e pensavano davvero che l'omicidio di Susan non potesse essere collegato a loro. Non so per quale assurda ragione. Ripeto, probabilmente hanno l'intelligenza di uno yogurt scaduto. Secondo la polizia durante l'arresto Bernadette e Jean madri di tre figli ciascuna continuavano a ridere e a scherzare. La polizia perquisendo la casa di Bernadette trova parecchi indizi che inchiodano i sei. La stanza in cui era stata tenuta Susan il letto rovesciato le cuffie e la musicassetta che facevano ascoltare alla vittima le pinze insanguinate e persino i denti di Susan che Clifford aveva custodito come trofeo. A casa di Jean invece si rinvengono i cappelli rasati di Susan in un cestino. Quindi anche se i criminali continuano a negare davanti all'evidenza gli elementi di prova raccontano ben altro. I membri della banda affermano addirittura di non sapere chi sia Susan quando sei familiari della vittima che i vicini possono testimoniare che quella sventurata ragazza conosceva Jean da anni e le voleva anche bene. Quando Anthony viene messo decisamente sotto pressione da suo padre che gli chiede di ammettere la propria colpevolezza il ragazzo racconta tutta la storia alla polizia che rimane senza parole perché solo ora scopre nel dettaglio tutto quello che ha dovuto subire Susan. Mentre l'atroce storia si delinea più di un poliziotto inizia a piangere silenziosamente. Gli agenti non riescono a credere a ciò che le loro orecchie stanno sentendo tanto che decidono insieme al personale civile della stazione di polizia di raccogliere dei soldi per inviare a Susan dei fiori in ospedale. Intanto Susan sta ancora combattendo per rimanere in vita è in coma da quattro giorni. I suoi familiari gli amici i medici e le infermiere pregano e sperano con tutto il cuore che la ragazza si salvi. Ora vi parlo davvero davvero onestamente in questo momento avrei tanto voluto raccontarvi un finale diverso per questo caso ma purtroppo Susan non ce la fa. Viene a mancare il 18 dicembre 1992 senza mai riprendere coscienza. Il dottor William Lawler un patologo del ministero degli interni ha detto l'improbabilità che Susan sopravvivesse era chiara fin dall'inizio a subituzioni su tutto il corpo che hanno portato a diverse complicazioni. Il medico legale invece afferma è chiaro che questa giovane ragazza deve aver sofferto molto e non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivere ma fortunatamente è sopravvissuta abbastanza lungo da fornire informazioni che hanno portato le persone menzionate a essere accusate della sua morte. Dopo il decesso di Susan tutti e sei i membri del gruppo vengono accusati di omicidio. Il processo a loro carico inizia il 16 novembre 1993 e dura 22 giorni. Durante le udienze tutti e sei si danno la colpa vicenda nessuno si assume la responsabilità di ciò che ha fatto ma non importa perché ci sono le prove evidenti compresa la testimonianza di Susan prima che morisse. La giuria inizia le deliberazioni il 16 dicembre del 1993 e impiega 9 ore e 52 minuti per raggiungere il verdetto. Giudica Bernadette McNeely Jim Powell Glyn Powell colpevole di associazione a delinquere finalizzata a lesioni personali gravissime di detenzione illegale e omicidio. Anthony Dutson viene dichiarato colpevole di omicidio associazione a delinquere finalizzata a lesioni gravissime e detenzione illegale. Solo queste quattro persone vengono ritenute colpevoli di omicidio perché presenti nel momento in cui hanno appiccato il fuoco che ha portato alla morte Susan. Clifford Pook viene dichiarato colpevole di detenzione illegale associazione a delinquere finalizzata a lesioni personali gravissime ma viene assolto dall'accusa di omicidio. Jeffrey Lee viene dichiarato colpevole di detenzione illegale ma viene assolto dall'accusa di omicidio e dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata a lesioni personali gravissime. Bernadette Jean e Glynn vengono condannati all'ergastolo con un minimo di 25 anni di detenzione. Dato che Anthony ha 16 anni ad Anthony viene dato l'ergastolo con un minimo di 18 anni che viene poi ridotto a un minimo di 16 in appello. Clifford viene condannato a 15 anni mentre Jeffrey Lee a 12 in una dichiarazione alla stampa a processo concluso il detective che ha lavorato al caso dichiara i rapporti psicologici dicono che questi sono individui assolutamente sani di mente è spaventoso che siano persone così comuni non c'è niente di singolare in nessuno di loro la cosa più spaventosa è che non si ravvisa neanche un vero movente per l'omicidio i sei criminali blatteravano dicendo che volevano vendicarsi per la trasmissione delle piattole un motivo che non sta in piedi specialmente se avanzato da persone ritenute sane di mente come hanno constatato gli psicologi e gli psichiatri che li hanno esaminati la mia constatazione resta una hanno l'intelligenza di uno yogurt scaduto lo sottoscrivo proprio ne sono più che certa nel 2014 21 anni dopo l'omicidio Bernadette viene rilasciata per buona condotta era una detenuta modello e a quanto dicono ha dimostrato rimorso e viene data una nuova identità quindi ora va avanti con la sua vita ma a quanto pare nel 1996 aveva avuto un rapporto con una guardia carceraria e durante la sua prigionia ha fatto amicizia con la serial Rose West e ha intrecciato una relazione romantica con la spietata Mayra Hindley si dice che Bernadette fosse fortemente manipolatrice e che questo le abbia fruttato la sua uscita anticipata dal carcere Jeffrey Ligt viene rilasciato dopo aver scontato appena 5 anni di prigione mentre Clifford Puck dopo 8 Gene Anthony e Glyn sono gli unici 3 ancora dietro le sbarre sono onesta con voi di nuovo questo caso non l'ho scoperto grazie alla notorietà della vittima come mi accade di solito ma dal nome di una delle colpevoli ossia Gene Powell quindi approfondendo la storia ho sperato con tutto il cuore che Susan si salvasse la ragazza mi sento di dire che si è dimostrata una combattente ha avuto una forza sovrumana ma purtroppo alla fine non ce l'ha fatta onestamente provo tanta repulsione perché come vi ricordo i suoi torturatori o assassini sono stati tutti considerati sani di mente io davvero non riesco a capire come a degli esseri umani sfiori anche soltanto l'idea di fare delle cose del genere a un proprio simile non riesco a darmi pace constatando la freddezza e la totale mancanza di empatia che ha dimostrato questo gruppo di persone sono ugualmente sdegnata da alcune delle pene previste soprattutto dall'uscita anticipata di Bernadette che è a pieno titolo la capobanda quella che ha preso in mano le redini della situazione insieme a Jean che invece è ancora in prigione davvero mi spaventa tutto questo orrore perché quando approfondisco un caso cerco sempre di darmi una spiegazione per non dover constatare ecco che si manifesta il male nella sana forma più triviale ma purtroppo i protagonisti di questo caso sono essenzialmente malvagi e sadici hanno sfogato i loro istinti più disumani su una povera ragazza che non ha mai fatto niente di male ma desiderava soltanto essere considerata e amata io ho finito di parlare di questo terribile caso mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso so che è molto molto forte e ho fatto anche abbastanza fatica a scriverlo ci ho messo un po' insomma per iniziare a scriverlo per iniziare a scrivere il video davvero alcuni casi sono davvero davvero tosti sono curiosa di sapere se conoscevate già questo caso ma soprattutto sono curiosa di sapere le vostre opinioni quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti